11.500 patate per arrivare a diamante 2 75 per cento Razor finiremo domani questa sporca venticinquina mi sa razor decisamente Signori qui c'è una sfida non ignorabile allora rocket racing stagione 0 20 per cento diamante 2 1 Mamma mia anche proprio controllare la macchina in queste situazioni risulta complicato Mamma mia raga undicesimo Incredibile Incredibile è troppo complicato Bisogna davvero tenere tutti e tre i boost per Per la parte finale Beh che comunque non mi fa cagare Che comunque non mi fa cagare un terzo posto Qualcosa abbiamo preso Bene 22 per cento raga 3 per cento abbiamo preso essendo arrivati i terzi Not bad Che cazzo fa quello è matto Per la parte finale Merda Sesto Sesto Nono Merda Veramente merda Lei come ha messo Nettunizer Nono sta mappa l'audio pure io però posso dire di usare il boost quando ci sono i due boost attaccati letteralmente poi ad usarlo quando si stacca dal muro prima del traguardo ok tra 10 e 28 Ernesto manda delle richieste di ingresso faccio il gruppo? si non va bene brutta storia salve salve questo sono i 90 gradi questa mattina è tragica 34% le posso dire una cosa? prego lei era più forte prima di partire per no erano più scarsigliati no 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 anche nelle mappe default mi devi riprendere un po' il questa non è default Ernesto non ci sono più le mappe più facili queste ma che cazzo dici? non è possibile che io faccio più di lei ma porco di atto valla tu nel pezzo finale dove ci sono tutti allora allora lei sbaglia un sacco di boost un sacco di minchiate un sacco di deceleratori cioè non deve avere fretta le giuro che ho notato che se te la prendi con più calma senza fare troppo senza generare non fai top 1 fai top 2 3 4 ma lei fa troppe top 7 8 no non sto scherzando non esito non pensi di farla dopo 1 perché tanto 2 3 rank up è una meraviglia minchia che traiardoni di merda che siamo hai ragione hai ragione ci sto provando voglio capire questa ci ho provato oh mio dio che ha fatto? una roba che non lo so non so neanche come cazzo ho fatto farla ok eh dai scendi giù non so come ho fatto a fare quella roba bravissimo questa è stata veramente brutta dammelo dammelo primo ok primo quarto quarto non è male Xiderone quarto non è male Xiderone 40% è festo buono buono cosa mi ha detto in 17 minuti devo fare il 5%? no entro che sì esatto e 45 deve arrivare quanto sta? 40 vai mi ritengo il ritmo ogni 20 minuti mi piace questo ritmo qua ti dà la voglia di fare cose esatto comando una troia ma quello che cazzo è qua 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 tolato anch'io tolato anch'io ce la fa? no 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 io l'ho guardata ma non l'ho sento settimo Xiderone ho fatto un taglio abnorme lo deve fare quale? quel taglio lì a destra è quello che ho fatto anch'io alla fine l'ho fatto l'ultima volta che taglio? ma non l'ho fatto del tutto perché io sono direttamente sul traguardo con quel taglio c'è un taglio Nettuno nell'ultima curva la via deve saltare Xiderone lei sta avanti a me guardi un po' la distanza due secondi e sette l'ho levato figa però le do una buona notizia ho rancato di uno per cento eh va benissimo abbiamo dieci minuti per fare l'altro tre oh che palle mi mandano nel decennatore sti coglioni sti coglioni peccato con la fine quinto ciao cinto grazie dei 14 ciao mamma book in ciao bro minchia per 6 millesimi sei arrivato tu quarto per me era davanti lei io non so come ho fatto come ho fatto tagliare prima io ho visto ho visto il traguardo top 6 top 5 e poi 4 what the fuck 44% e festo 44 44 buone 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 buono ci siamo nettunazzo ci siamo abbiamo nel timing si 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 secondo bravo cilione easy schifo di performance mica di tre millesimi f di tre millesimi perché 44% su nettuno chi è merda non mi sa che sta spaccando tutto in mutuo 56% con 7 minuti di anticipo f it's gooding adesso deve arrivare al 65 entro mezzogiorno quindi al 65 entro mezzogiorno ci sono mettiamo un 65 entro le 11 e 50 entro le 11 e 52 53 ma sento provato sento provato nettuno no no non si preoccupi ci trovo 65% entro le 11 e 55 voglio che cazzo che taglio è quello che hanno fatto questo a me mio quanto pazzo tra gli ardati e fighi di puttana se taglio io non li conosco proprio non li conosco proprio non potevi aspettare però è lo dice a me? cazzo sono io il primo e venga 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 e tu nel secondo venga 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 dove è stato dentro di te sto buttando adesso vedi scendo non frenare non frenare non frenare vinci vinci oddio sei un pazzo va bene va bene va bene non si preoccupi non si preoccupi ho vinto ho vinto ho vinto io ho vinto lo sesto come frega un cazzo ci vedo merda ma al primo dove cazzo è ma troia toziana buttana sono una fai chino tipo ragazzi non lo posso non conosco il controllo del veicolo quarto va bene così quarto quarto e tu e tu vinto cazzo bravo e tu cosa undicesimo no Ernesto come undicesimo ho sbattuto su qualsiasi cosa possibile sbattere 62% penso di aver preso il 2% con questo 4 nice si 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 rientra in linea il pollo traiatra eh no queste cose non lo vuoi sentire cercato di prendere lo stesso che prende tu ci basta prenderlo come l'ultimo e io c'ho tratturino l'usato ma te l'hai fatto il dodicesimo dodicesimo no lo dicesimo it's brutal ma 61 per cento e tra il quattro se non è non mi può arrivare ultimo l'ultimo giro questo e di nuovo stesso errore di prima è schifo ma questo si chiama x drasmo minchia ero convinto terzo sesto nettuno ottavo ora che nettuno sta tenendo forte comunque a suoi ritmi difficili 11 minuti mi sono messo un bastone in culo in questo momento una nettuno la prende mi piace come on settimo e ho rischiato pure di esplodere grazie moglie 4 minuti e non è matematicamente più possibile quanto sta quanto sta 69 vince questa e vince la prossima ce la fa ancora stata in due guardi che ripeto sto giocando delle partite difficilissime sono i top mondiali queste non è che sto giocando le partite del cazzo ci sta che non è facile devo morire non è che Che cazzo è morto? Questa è incartabile Tu volevo arrivare davanti, tu volevo Questa performance non so che io Sì Qu'è Crim Jiangile? No che... Forza, forza! Ok, primo? No, sono quarto sulle truite. Sto passando pure nel tuo. E' uno della stessa macchina mia. Io non sono... Dio, ho fatto un'altra... Ok. Vabbè, ma com'è? Ma quanto tagliano? Manca un giro qui. Manca un giro, solo decimo. Beh, perché è giù? Ma sono tu, perché sono tutti qui, eh? Ma decimo non va bene. Dice al quinto, sesto, decimo no, no, sei giù. Oh, no, sai giù? Ok. E' giù un giro. Ok. 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 Vabbè, se non mi colpisce mi fa deliberare perchè è una male proia. Vabbè, oh ragazzi, ci puoi più volte. Come hai detto il Trisopro, Colombo? Non ho fatto a mangiare a cane. Cosa l'ho fatto? Sei andato primo? Cosa? 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 Non lo ho visto.